Ben tornati sul mio canale, fatemi sapere subito nei commenti se proverete a fare questa deliziosa torta semplice con Nutella al cuore cremoso. Vi siete iscritti già al mio canale? Mi raccomando ricordatevi anche di attivare la campanella Iniziamo ghiacciando la Nutella, questo permetterà di avere un cuore sempre cremoso Io l'ho messo negli stampini di ghiaccio a cuore Devono congelare alla perfezione, quindi all'incirca 2-3 ore In una ciotola iniziamo a montare le uova con lo zucchero Uova a temperatura ambiente perché montano meglio e anche prima Con le fruste elettriche a tutta velocità senza spegnere mai, per circa 5 minuti Il composto risulterà molto chiaro e alzando le fruste scriverà Setacciate aggiungiamo le polveri, magari anche in due riprese Ed inglobbiamole non più con le fruste elettriche ma con una spatola Con movimenti rotatori dall'alto verso il basso Aggiungiamo anche due cucchiai di yogurt che renderà l'impasto ancora più soffice Riprendiamo i cubetti di Nutella ghiacciata e passiamoli velocemente nel cacao Teniamoli da parte e intanto versiamo il composto nella teglia Aiutandoci con una spatola per togliere tutto il residuo Affondiamo i nostri cubetti di Nutella ghiacciati Qui ovviamente decidi tu, io ne metterai tantissimi Senza livellare o scuotere la teglia andiamo in cottura Sforniamo, lasciamo raffreddare, eliminiamo la carta forno e trasferiamolo su un piatto da tortata Metto sempre anche una spolverata di zucchero a velo che ovviamente è facoltativo Anche dopo essersi freddata la nostra torta conserverà un cuore morbido che ti stupirà veramente Per quanto riguarda l'interno puoi sbizzarrirti Per esempio con la crema spalmabile alle nocciole, al cioccolato bianco o al caffè Fammi sapere nei commenti se la mia ricetta ti è piaciuta e che gusto proverai Ci vediamo qui lunedì prossimo